musica Oh, che casinotto, che carino. Amici, c'è fame. Che cosa, ha fame? Sì, ci sono due, perché così, quando sono finiti quelli, poi usiamo anche questo, ok? Va bene, sicuramente così, amore. Ha fame, amicizie. Tieni, dalle un bacò di questo. Ha fame, allora gli dobbiamo mettere questo. Eh sì. Qua. Prepariamo la porzione. Prepariamo. Di cibo. Il cibo. Che carino, hai visto questo? Possiamo fare anche mangiare qui. La bavettina per il pranzo. Mettiti qua. Oh, oh. Scusa. No, mamma, così si deve prima sedere, altrimenti non regge. E non gli dobbiamo mettere. Posso andare pure senza, però, eh, vedi? Ok. Questo, questo cos'è? Quando devi fare la pappa. Ok, questo quando devi fare la pappa. Eh sì. Ehi, devi fare la pappa, allora questo qua si serve. Però sul tavolino, non sul divano, è vero? È chiaro, qui, mi fa un mandale. Papà, ti troverai la pappa. Sta mangiando? Oh, oh, oh. La pappa mi sa che ha messo poco, poca acqua. Com'è, ti piace? E tu che ci fai qua? Per un mandale, è tu. Ok. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti.